L'altro giorno ero fuori per lavoro e mi imbatto in una autocisterna scortata dalla polizia con dei fotografi attorno. Mi fermo e mi dicono che è uno dei mezzi del servizio giardini per disinfettare le strade e che è stato messo a disposizione della stampa il tempo necessario per foto e riprese. Raggiunto il punto prestabilito l'autobotte parte in piena luce, avanza in un arcobaleno di disinfettante, per la gioia degli obiettivi. Peccato che, nonostante il traffico inesistente, alle sue spalle si è creata una coda con anche una cicogna, bisarca al secolo. Un istante e per un po' è traffico. Era poco probabile che potesse succedere, però è successo. Per la cronaca l'ultima volta che ne avevo vista una qui era nel 2016 ed era anche più piccola.